Siamo con Ercoli, capitano dell'Avis Chiaravalle, allora l'ennesima vittoria, oggi diciamo che doveva essere facile, ma in realtà il primo tempo è stata un po' combattuta e poi ovviamente l'Avis va a vincere 8-3. Eh sì, complimenti all'altra squadra, veramente una squadra tosta nonostante la classifica. Noi stiamo cercando di tirarci su, speriamo nel proseguo di fare altri tanti risultati utili. Qualche mancanza in difesa, diciamo che sostanzialmente ogni tanto soffrivate le diagonali dell'attacco avversario, però le ripartenze erano molto più piccanti delle altre partite. Sì, rispetto alle altre partite devo dire di sì, il mister ha fatto un ottimo lavoro, i ragazzi si stanno impegnando tutti e complimenti anche a voi come organizzazione. Grazie. Sette, l'ultima domanda, dove vuole arrivare quest'Avis? L'Avis dov'è? Va bene così, è importante divertirsi, lo scopo è quello. Complimenti e arrivederci. Grazie ancora, ciao.